Gli studenti della Monash University ridisegnano la città. Vediamo insieme di cosa si tratta nel servizio di Barbara Burzi. Cinque installazioni tessili esposte in altrettanti spazi urbani. Sono le proposte degli studenti del corso di architettura della Monash University. 20 giovani suddivisi in gruppi di lavoro che con questa esperienza didattica hanno voluto suggerire nuove possibilità per fruire di alcuni spazi cittadini. Il progetto Radical Mapping Prato dal loro curato è stato inaugurato alla presenza dell'assessore alla cultura Nabeltrame con una passeggiata attraverso la scoperta dei cinque luoghi chiave dove le opere sono state collocate temporaneamente fino a martedì. Piazza dell'Università, Portafrascati, Biblioteca Lazzarini, Museo del Tessuto e Giardini della Stazione Centrale. Il progetto è unito da una linea immaginaria che costituisce questa mappa di Prato che noi abbiamo fatto e che dà il nome al progetto. E praticamente dà un'idea diversa della città così come è vista dai nostri studenti. Prima tappa, piazza dell'Università, proprio dietro la stazione di Porta al Serraglio dove ogni giorno centinaia di passeggeri di diverse nazionalità scendono dal treno per fermarsi a Prato. Qui quattro giovani aspiranti architetti hanno realizzato un'opera che rappresenta una porta d'accesso sulla Prato contemporanea e multiculturale utilizzando dei pannelli di stoffa sui quali sono state raffigurate le porte d'ingresso delle principali città del mondo. L'intento, come hanno spiegato, è quello di celebrare l'incontro tra culture diverse. Che idea della città ti sei fatto? Prato è una città bellissima, molto diversa da Melbourne naturalmente, ma ci siamo sentiti a casa. È un solo mese che siamo qui ma ci piace girare nei piccoli vicoletti, abbiamo i nostri negozi, le gelaterie, i panifici, quindi ci piace molto. Il tour ha continuato verso le mura di Porta Frascati dove sono stati appesi dei drappi che abbattono simbolicamente le barriere. Ai giardini della stazione un modello geometrico richiama l'attenzione sul parco, mentre nel cortile del Museo del Tessuto una corda intrecciata e pezzetti di stoffa colorati invitano la comunità alla partecipazione. Nel piazzale della Lazzerini, infine, è l'intreccio dei tessuti stessi a rendere più accogliente e dinamico lo spazio.